Ancora un grave incidente sul posto di lavoro in provincia di Padova è avvenuto nelle prime ore del mattino alle fonderie Anselmi di Campo San Piero. Un operaio è stato trasportato dall'elisoccorso in gravi condizioni all'ospedale di Padova dopo essere rimasto schiacciato da un cassone durante il suo turno di lavoro. Nell'incidente avrebbe riportato numerosi traumi. Oltre ai sanitari sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e lo Spisal. Immediata la risposta dei sindacati che chiedono di non abbassare la guardia e di non dare mai per scontata la sicurezza sui luoghi di lavoro. Anche in provincia di Padova si deve avviare un percorso istituzionale che ponga un cambiamento nel modo di lavorare nelle aziende. Proprio per questo venerdì 22 giugno CGL e Cisle Will incontreranno il prefetto per fare il punto della situazione padovana e presentare la piattaforma regionale unitaria metalmeccanica mentre tutti i delegati e i membri dei direttivi presideranno piazza Antenore durante l'incontro in prefettura.